Grazie. Due anni fa, quasi due anni fa, dove ho parlato di moti celesti e di misura del tempo. Ho aggiunto tutta una parte sugli orologi. Quindi questa prima parte, poi vediamo come andiamo lunghi con il tempo e vediamo se diciamo a farci tornare anche la seconda. Però nella prima parte ci concederemo molto brevemente su il tempo, giusto due o tre nozioni, e poi sugli orologi. Visto che l'argomento è la misura del tempo, ho cercato di mettere insieme un po' un qualcosa che ci desse l'idea di come l'uomo ha misurato il tempo e di come stiamo misurando il tempo adesso e di perché lo stiamo misurando così. Ho cercato di scendere un po' nel dettaglio, giusto per darvi anche modo di capire certe frasi che si leggono in giro, che se no restano un pochino appese lì. Non ho voluto esagerare con formula e altro, primo perché la maggior parte delle formule, anch'io, non ne colgo l'essenza e poi per non appesantire la cosa. In qualsiasi momento se boccheggiate dalla difficoltà, me lo dite, fate dei cenni e cerchiamo di passare oltre. Bene, allora il tempo, si parla di tempo, quindi la prima cosa che viene da dirsi, la domanda principale è ma che cos'è il tempo? Scienziati e filosofi si sono interrogati e si interrogano tutt'oggi su che cosa sia il tempo. Scienziati contemporanei ci raccontano che quando si va a lavorare a livello microscopico, quindi a livelli più piccoli dell'atomo, il tempo scompare dalle formule. Quindi già nella formula della relatività generale la variabile t non c'è. Questo lo raccontava Carlo Novelli, e la cosa mi ha abbastanza incuriosito. Quindi anche lui ci spiegava che sembra quasi che sia una percezione, cioè quando noi andiamo a cercare di rispondere alla domanda che cos'è il tempo, non troviamo una risposta, cioè ancora oggi non troviamo una risposta. Questo tempo lo percepiamo tutti, lo percepiamo dal momento in cui la nostra coscienza ci rende coscienti di se stessa, quindi dal momento in cui cominciamo a pensare ma che cosa sia il tempo, non lo sappiamo. Stabilito che stiamo parlando di qualcosa che non conosciamo, la seconda domanda è ma perché vogliamo misurare il tempo? Ma fondamentalmente l'uomo ha cominciato a misurare il tempo per non morire di fame. Bisognava sapere quando veniva buio e quindi se lo sapevo prima potevo magari tornare a casa, rifugiarmi, cercare un rifugio. Oppure sapere qual è il giorno giusto per seminare il grano. Quindi le prime misure che l'uomo ha fatto sul tempo, le più spannometriche possibili, però hanno cercato proprio di dargli delle tecniche di sopravvivenza. Quindi ha cominciato a usare la sua intelligenza per cercare di vivere più a lungo. E quindi, altra domanda, che cos'è una durata? Questa è proprio una piccola parentesi. Quando noi parliamo di durata noi dobbiamo pensare a un rapporto, quindi a una divisione, tra un periodo, che è il periodo che noi vogliamo misurare, quindi quanto dura questo film, e un periodo di riferimento. Quindi vedete che quando parliamo di tempo, parliamo di tempo sempre riferendoci al tempo. Perché cos'è un periodo? È un periodo di tempo. Che cos'è? Cosa fa un orologio o scilla con un periodo? Ma cos'è un periodo? Il tempo. Quindi è una cosa autoreferenziale che però noi cogliamo benissimo, perché è banale che il rapporto tra il periodo da misurare e il periodo di riferimento è una durata. Le esprimiamo sempre con un numero e il valore. Quindi le durate le esprimiamo noi normalmente in secondi, ore, giorni, anni, eccetera, eccetera. Quindi nella nostra vita più o meno le durate con cui abbiamo a che fare sono queste. Bene. Chiusa questa piccolissima parte su che cosa è il tempo e di che cosa stiamo parlando, quindi non cercheremo di definire il tempo, ma cercheremo di indagare invece su come misuriamo le durate. Come le misuriamo queste durate? Le misuriamo con degli strumenti, che sono gli orologi, o cronometri, o chiamateli come volete. Io li chiamo orologi. Quindi qual è lo scopo di un orologio? Che cosa fa l'orologio? L'orologio percepisce un fenomeno periodico e ce ne restituisce un conteggio. In questo modo noi possiamo capire, vi ricordate prima la durata, un numero più il periodo. Quindi se il nostro orologio percepisce i secondi, ci restituisce un numero, vuol dire che ci sta dando quanti secondi passano da un certo istante a un altro istante. Quindi l'obiettivo di un orologio alla fine è banale, no? C'è dentro un fenomeno periodico e un contattore, come il contattore del gas. Che cos'è un orologio? Un orologio, alla fine delle fini, se togliamo il contattore, che è veramente la cosa più banale che uno possa pensare, quello che resta è un oscillatore all'interno del quale c'è un elemento risonante. Ok? Poi vedremo un pochino più nel dettaglio. Però per ora il concetto mi sembra abbastanza chiaro. Qua di nuovo, qual è la durata del periodo dell'oscillatore di un orologio? Eh vabbè, l'uomo ha sempre cercato di costruire orologi con il periodo di misura più piccolo utile per l'epoca. Cioè oggi che senso avrebbe usare il periodo di variazione delle maree come riferimento? Quando inizia il film, ma inizia la quarta marea e mezzo, cioè non avrebbe senso. Quindi oggi abbiamo, usiamo certi periodi di riferimento che magari in epoche passate non avevano significato. Piccola parentesi su questi due concetti, giusto per adentrarci in quella che poi sono poi i concetti di metrologia, perché poi qua alla fine si sta parlando di metrologia, che è di nuovo una scienza che si autoreferenzia, però alla fine ci porta dei risultati, cioè sentirne parlare fa quasi ridere, però alla fine poi la metrologia è importante. Quindi stabilità e accuratezza. Quando parliamo di orologi, confondiamo un po' la stabilità con la precisione, perché non è che io posso fare più volte la misura di un certo istante, perché la precisione si riferisce, quindi la stabilità o precisione, che è riuscire a mantenere la stessa frequenza, cioè ad avere i ticchetti dello stesso orologio sempre alla stessa distanza temporale l'uno dall'altro. È un po' anche il concetto di precisione della misura, quindi essendo un concetto di tempo, la stabilità, che significa tenerli costanti, un mio orologio deve battere bene adesso e allo stesso modo dovrà battere domani, e allo stesso modo dovrebbe battere tra un anno e tra dieci anni. Vorrei che battesse sempre lo stesso tempo, quindi l'orologio dovrebbe essere un oggetto che ha una grande stabilità, appunto si confonde un pochino col concetto di precisione. E poi noi l'orologio lo vorremmo anche accurato, cioè vorremmo che se il mio orologio conta il tempo in secondi, vorrei che contasse il tempo in secondi, non in un secondo e mezzo, cioè vorrei che ogni volta che la lancetta si muove fosse passato veramente un secondo di tempo. Quindi l'accuratezza è un'altra caratteristica che deve avere un orologio, quindi non deve mai allontanarsi dalla certa frequenza nota per cui è stato costruito. È chiaro che un orologio che è accurato deve essere anche stabile, perché se non perde significato, è inutile che sia accurato per un secondo e poi non sia più accurato. Quindi un buon orologio deve essere accurato e stabile. Quindi la stabilità di un orologio è il fondamentale elemento. E quindi noi cercheremo di andare a cercare risuonatori che siano stabili. Ancora una cosa, il fattore di qualità. Questo è semplicemente un numero che ci dice quanto è buono un orologio. Non è proprio definito così, però uno degli effetti del fattore di qualità è questo. Cioè se un orologio sbaglia, va avanti, va indietro, quindi l'errore compiuto dall'orologio, rapportato al tempo in cui quest'errore si verifica, si chiama fattore di qualità. Faccio prima con un esempio che a spiegarlo. Ad esempio se io ho un orologio che mi sbaglia un secondo a un Q di 100, vuol dire che mi sbaglia di un secondo ogni pochi minuti, non è un gran bello orologio. Cioè se il mio orologio avesse un fattore di qualità di 100, fra dieci minuti già mi conterebbe un tempo sbagliato. Se andiamo avanti, già un orologio che ha un fattore di qualità di un milione, mi sbaglia un secondo ogni circa 15 giorni. Insomma, mi accontento, ad esempio, se io tutte le sere o una volta alla settimana sistemo il mio orologio con un tempo campione. E così via, quindi 10 alla 8, che vuol dire 100 milioni, mi sbaglia un secondo ogni tre anni. E siamo nell'ambito degli orologi meccanici. 10 alla 10, che vuol dire 10 miliardi. Un secondo ogni 10 miliardi di secondi, vuol dire che mi sbaglia un secondo ogni circa 317 anni. E andiamo negli orologi elettronici. Andando avanti con i fattori di qualità, abbiamo 10 alla 15. Un secondo ogni 32 milioni di anni. Sono gli orologi atomici quelli che oggi ci fanno i riferimenti temporali. Ne parleremo molto approfonditamente. E poi, qua c'è già un'occhiata verso il futuro. 10 alla 18, quindi un secondo ogni 32 miliardi di anni gli orologi ottici. E 10 alla 19, un secondo ogni 300 miliardi di anni gli orologi nucleari. Quindi sbaglia di un secondo per un periodo di tempo che è ben oltre la durata del nostro universo. L'obiettivo del futuro è produrre orologi sempre più precisi. Diciamo che il tempo è l'unità di misura più precisa che noi abbiamo a oggi. Grazie appunto al fatto che noi ci stiamo piazzando nell'ambito degli orologi atomici. Bene. Quindi un buon risuonatore deve risuonare per un lungo tempo dopo l'avvio e poi non solo. Dovrebbe risuonare in uno strettissimo ambito di frequenza. Cioè io vorrei un pendolo che, se ha un periodo di 5 secondi, deve, quel pendolo lì, deve risuonare esattamente a 5 secondi. Quindi, perché, adesso vi spiego il perché, avete mai provato a soffiare in una bottiglia? La bottiglia emette una nota, sempre la stessa. Voi potete soffiare un po' come volete, quando la bottiglia emette la nota emette sempre la stessa nota. Quello è un esempio di risuonatore. In particolare si chiama risuonatore di Helmholtz. Quindi la frequenza, la nota che noi udiamo con le orecchie, corrisponde esattamente alla frequenza con cui l'aria vibra dentro questa bottiglia. Questo è un buon risuonatore per un orologio? All'in là della difficoltà di prendere con un microfono la nota e cominciare a contare quante oscillazioni fa. Supponiamo di poterlo fare. Qual è il problema della bottiglia? Che se l'aria è un po' più densa, un po' meno densa, la frequenza cambia. Che se c'è un po' più caldo, un po' meno caldo, la bottiglia si può dilatare o restringere e la frequenza cambia. Magari noi con le orecchie non lo percepiamo, ma se pretendiamo di costruire orologi che sbagliano di un secondo ogni qualche milione di anni, basta pochissimo perché quel risuonatore lì cominci a spostarsi in frequenza. E quindi non è un buon risuonatore una bottiglia in cui soffiare dentro. Non è un buon risuonatore per orologi. Quindi, qual è il risuonatore ottimo? Deve essere stabile e accurato indipendentemente dalle condizioni fisiche esterne, perché poi questo orologio vive nel mondo fisico e il mondo fisico diventa caldo, diventa freddo, subisce campi magnetici, già soltanto il campo magnetico della Terra, subisce la gravità perché comunque qua la gravità c'è. Quindi, deve essere un qualcosa che resti stabile e accurato indipendentemente dalle condizioni fisiche esterne. Dopo queste, non proprio poche premesse, però penso abbastanza chiare, non mi sembra che ci fosse niente di difficilissimo, a questo punto siamo pronti a partire. Partiamo in un piccolo viaggio che ci porta dagli orologi più primitivi fino agli orologi che usiamo oggi. Quindi, partiamo dagli orologi primitivi. Quali sono i primi orologi che l'uomo ha potuto usare? Ma sono proprio gli orologi astronomici. Qua finiamo proprio nel nostro, finiamo nel nostro qua. Quindi, i moti della Terra, con la rotazione noi contiamo i giorni, con la rivoluzione noi contiamo gli anni, potremmo usare le rivoluzioni dei satelliti di Giove, ma non è che sia proprio pratico come riferimento temporale, che ci giova a sapere contare il tempo con la rivoluzione dei satelliti di Giove. Non ci giova niente. Quindi, quali sono gli strumenti che abbiamo usato anticamente per misurare il tempo? Avevano messi alcuni. Le meridiane, tutti quanti le conosciamo. I notturnali, quasi tutti quanti li conosciamo. Ne aveva parlato molto bene Giovanni Capra, quando aveva fatto la sua presentazione, anche lui sul tempo. Il tempo è un argomento che incuriosisce. Anche l'osservazione dell'equinozio. E qui funzionano solo col cielo sereno. Vi ho messo i tre esempi. Quindi, meridiana, il notturnale è questo oggetto qua. Non vi spiego come si usa, ma si può usare di notte. E quello lì era l'osservazione degli equinozi. Se si pensa che Stonehenge fosse proprio un osservatorio che veniva usato per capire quando iniziava la primavera. Che era un momento fondamentale, no? Inizia la primavera, bene, si sa che le giornate si stanno allungando e quindi si può cominciare a fare tutta una serie di attività per non morire di fame. Quindi questi qua erano un po' i tre strumenti degli orologi primitivi. Altro esempio di orologio primitivo sono stati gli orologi a fluido. Sono stati creati magari un pochino dopo, perché prima io osservo il sole, poi mi rendo conto che ci sono dei fenomeni che posso usare, no? Questo concetto del tempo che scorre, del fluire del tempo, ma allora l'acqua che scorre o la sabbia che scorre era una buona metafora, e beh, comunque è stata usata parecchio. Quali sono i problemi di questi orologi? Che occorre una sorveglianza continua, cioè ci vuole qualcuno che li operi continuamente. E qua vi faccio un paio di esempi. Avete visto come funziona sto orologio? L'orologio a fluido ci vuole qualcuno che lo gira e quando scatta suona l'ora. Altro esempio, guardate quanto è impegnativo usare un orologio a fluido. Altra sequenza del film, siamo in un momento molto critico, non sanno nemmeno se supereranno questa tempesta. e comunque in mezzo a tutto sto delirio c'è qualcuno che è lì che gira sta clessidra. È talmente importante girare la clessidra e marcare il tempo che anche a fronte di un possibile naufragio comunque si gira la clessidra e si marca il tempo. Il primo vero orologio, quindi il primo vero marcatore del tempo, si è dovuto aspettare che ci fosse un'evoluzione, sì, un'evoluzione della meccanica. Quindi i primi orologi, per così dire orologi, sono stati gli orologi meccanici. Quindi, invece di usare la metafora più facile che è il tempo fluisce e uso anch'io qualcosa che scorre, qua la genialata è stata usare invece un'oscillazione periodica. Prima con i bilanceri e poi dopo Galileo, quando capì che il pendolo è isocrono, quindi un pendolo che oscilla per piccole oscillazioni, oscilla sempre con lo stesso periodo indipendentemente dalla sua ampiezza, hanno fatto orologi meccanici. Vediamo un pochino nel dettaglio chi è il cuore di un orologio meccanico. Il cuore di un orologio meccanico si chiama scappamento. L'inventore è sconosciuto, cioè è come il fuoco, cioè l'inventore dello scappamento si perde nella notte e nei tempi, non c'è, non è documentato una persona che abbia inventato questo meccanismo. I primi documenti che si trovano scritti lo danno già per scontato. Che cosa fa? L'orologio meccanico funziona con un motore che può essere una molla, un peso, un qualcosa di carico, quindi un peso che si srotola cadendo, che fa girare delle pulegge, o una molla che io carico a mano e che poi fa girare degli ingranaggi, però se io metto lì un peso o una molla, poi vedrete meglio, questo peso e questa molla fanno girare tutti gli ingranaggi e l'orologio non conta niente, cioè conta a caso. Bene, lo scappamento permette di bloccare periodicamente la spinta del motore rendendolo discreto, quindi anziché continuo, facendolo avanzare per salti. Quindi trasferisce, non solo, lo scappamento trasferisce anche l'energia del motore, che sia una molla o che sia un peso, al risuonatore, che sennò dopo un po' si fermerebbe. Se io mi metto qua, do una bicellata a un pendolo, per bene che io faccia il pendolo, dopo un minuto, due minuti, un'ora, poi dopo un po' sto pendolo si ferma. Quindi lo scappamento fa due cose. Primo, blocca lo scarico dei motori, rendendoli isocroni con l'oscillatore, con il risuonatore, e poi trasferisce un pochino di energia al risuonatore per tenerlo in moto. L'effetto finale è che la lancetta avanza per piccoli salti. E adesso qua, c'è un bel videozzo, io ve lo doppio, visto che è in inglese. Preferite sentirlo o che ve lo racconti? È in inglese, ve lo racconto. Allora, vedete, questo qua è l'elemento risuonante. C'è una molla e un bilanciere. Tutte le volte che viene data una spinta a quel... l'oscillatore, il risuonatore, si muove ma poi si ferma. Lui dice, se noi mettiamo un'ancoretta, vedete che quella forchetta va ad agire sul... perno, ce l'ho fatta, e tutte le volte che lui muove l'ancoretta, il perno si muove. A questo punto noi mettiamo quello che si chiama un rubino, un gioiello, quindi una pietra molto dura, a un capo dell'ancoretta. E con questa ruota che si chiama ruota dello scappamento. Tutte le volte che la ruota dello scappamento spinge sul gioiello, sposta l'ancora e il nostro risuonatore comincia a fare un po' di risuonare. Quindi, poi, vedete, l'ancora torna lì, continua a muoversi, dopo un po' si ferma. Devo darci un altro colpo perché l'ancora rimette in moto il mio oscillatore. Adesso noi colleghiamo tutto l'ambaradang alla molla di carica. Adesso lui carica la molla di carica e quello che succede è che la ruota dello scappamento gira spinta dalla molla, non si ferma. Sì che mi ha messo in moto il risuonatore, ma la molla si è già scaricata, cioè, fine, non sta contando niente questo oggetto qua, quindi manca ancora un pezzo. manca lì sotto un altro gioiello, un altro rubino che guardate che cosa fa. Adesso, nel momento in cui lui muove lo scappamento, vedete, il gioiello sotto lo blocca fino a quando il risuonatore non fa spostare di nuovo la forchetta, liberandolo e facendo in modo che lo scappamento dia di nuovo la bicellata al risuonatore. Eccolo lì. Questo è lo scappamento. Lo faccio rivedere perché io ci ho messo non so, però io ci ho messo ci ho messo parecchio a cogliere l'attimo, eh. Eccolo qua. Vedete? Quando le molle il motore spinge la ruota di scappamento. Questo viene bloccato dal gioiello sotto fino a quando il risuonatore non sposta la forchetta e lascia lo scappamento girare. In quel momento lo scappamento rispinge la forchetta che ridà un colpetto al risuonatore e il meccanismo va avanti finché c'è qualcuno che spinge con continuità contro la ruota dello scappamento. È chiaro che poi quando io carico la molla dell'orologio a quel punto lì questo meccanismo fa in modo che la molla spinga solo nel periodo desiderato. Questo è il meccanismo di base. Non si sa chi l'ha inventato e questo è quello con cui ancora oggi con gli orologi a scappamento contiamo il tempo. Con le pendere qualsiasi orologio voi vedete meccanico dentro c'è un meccanismo di scappamento. Vi faccio notare una cosa che secondo me è importante è importante è carina. Qui è il risuonatore stesso che stimola l'orologio ad andare ad avanzare quindi il risuonatore quando torna indietro sposta lui la forchetta la forchetta fa muovere l'ancora che permette alla ruota di scappamento di fare un pezzettino di giro. Tenete a mente sta cosa che è il risuonatore che in qualche modo stimola l'orologio ad avanzare. Ecco vi faccio vedere qualche esempio di scappamento. Giusto per vedere questo è il minimo io non sarei capace a farlo però vedete come funziona questo è un pendolo lì la chiave il bullonazzo e il motore che fa se non ci fosse lo scappamento quello lì cadrebbe per terra e la ruota dentata comincierebbe a girare si fermerebbe invece vedete che è esattamente lo stesso meccanismo il dente di sotto blocca la ruota mentre quello di sopra la ruota gli dà la spinta in maniera che il pendolo continui ad oscillare col suo periodo e finché il peso non tocca per terra sta a fare qua va avanti a contare il tempo che passa molto più rudimentale di quello che abbiamo visto prima però funziona tutto di legno chiaro che non avrà accuratezza e stabilità un po' di umidità si dilata un filino il legno e la tua stabilità e qua invece andiamo al margine opposto questo è lo scappamento più complesso che ci siamo inventati si chiama tourbillon vedete che lo riconoscete lo scappamento no? qua sotto c'è la molla vedete che si allarga e si stringe il bilanciere che è quello grosso giallo e lassù c'è la ruota di scappamento e qua c'è l'ancoretta se ci fate caso la vedete ciao si muove talmente veloce che non la riesco a vedere vedete che sto qua rispetto allo scappamento di prima sta anche ruotando lui perché ruota lui? perché visto che lo scappamento è meccanico se voi pensate di mettere in relazione lo scappamento e l'ancoretta in base a come sono messi rispetto alla forza di gravità non è detto che si comporti allo stesso modo quindi il fatto di far ruotare l'intero meccanismo compensa periodicamente eventuali scompensi dovuti alla gravità questa è la cosa più complessa a livello orologistico che sia stata inventata è uno spettacolo quindi qua la molla oltre a far girare fa girare l'intera gabbia dove dentro c'è lo scappamento ok quindi com'è la storia degli orologi meccanici la prima di cui si ha notizia è l'844 orologio nocturno la grande novità era che finalmente si riusciva a contare le ore di notte ma secondo me più che di notte quando c'era nuvolo perché tutti gli orologi prima di questi che erano tutti basati sugli astri se c'era un volo tu non sapevi che ora era e quindi andavi di clessidra questo è stato il primo orologio meccanico andava a volano e chi ne scrisse fu sto vescovo pacifico di Verona nell'844 aveva uno scappamento non a pendolo perché nessuno ci aveva ancora pensato era bilanciere e c'era un volo una cosa un macchinario enorme c'era un peso da mi sembra 500 kg di peso che tirava giù una corda che metteva in moto tutto l'organo che contava al tempo però lo scappamento sarà stato rudimentale ma era esattamente quello che abbiamo visto prima fino ad arrivare nel 1656 quando Huygens costruì fisicamente il primo pendolo l'idea venne a Galileo fece anche dei disegni dei progetti adesso qualcuno in tempi moderni si è messo lì e li ha anche realizzati ma Galileo non lo realizzò lo realizzò poi Huygens altro piccolo riferimento giusto così per sapere nel 1889 un particolare tipo di scappamento portò la qualità degli orologi a 110.000 e nel 1921 quindi già in tempi recentissimi il pendolo fotoelettrico portò la qualità di misura a 378 milioni ed è il primo orologio meccanico più preciso della rotazione terrestre e quindi con questo misurarono la mutazione della Terra che è uno dei moti secondari del nostro pianeta ok quindi ci stiamo un po' sganciando da un tempo misurato dal Sole per andare sempre più a tempi misurati da strumenti una parentesi perché secondo me se la merita io c'è un libro che racconta la storia di John Harrison che siccome è bellissimo perché a me è piaciuto Harrison era un grandissimo orologiaio lui aveva inventato meccanismi sapeva esattamente i vari legni come interagivano tra loro legni autolubrificanti cioè quindi combinando opportunamente diversi tipi di legno riusciva a fare ingranare fate conto che lui ha costruito un orologio in un campanile che funziona ancora oggi con gli stessi pezzi quindi la durata è come era nato come falegname sì lui era sì era un orologiaio falegname ai tempi si sentiva molto il problema del calcolo della longitudine quel film che avevamo visto prima siamo lì e c'era il classico c'era il premio per chi fosse riuscito a trovare un metodo per il calcolo della longitudine non vi faccio tutta la storia perché è affascinante perché ci fu uno sconto tra i technology Harrison e invece i teorici che era gli astronomi che era non mi viene il nome ma era il capo dell'osservatorio di Greenwich ai tempi gli uni volevano usare le osservazioni dei satelliti di Giove per contare il tempo e gli altri dicevano noi con la tecnologia riusciamo ad avere un conteggio del tempo preciso tutto per far navigare le navi e non farle infrangere contro gli scogli ottiene precisioni elevate cioè gli orologi di Harrison sono stati utilizzati persino da Cook che dopo tre anni di utilizzo ha detto questo qua è lo strumento giusto per navigare e da quel giorno lì si naviga con gli orologi ci sono sempre anche le osservazioni astronomiche ma ormai lo strumento principale della navigazione è diventato l'orologio l'ultimo modello l'ha chiamato H4 H da Harrison ed era un orologio fatto a bilancieri a molla io qui vi faccio vedere giusto due foto questa era l'H1 fatto nel 1735 34 kg di bambino sta a fare lì in ottone ovviamente pendoli contro qual era il problema il problema è che la nave oscilla quindi io non posso usare un pendolo sulla nave e anche un bilanciere non funziona quindi qua lui ha messo in atto tutta la sua genialità ci ha messo anni a costruire sta cosa qua ci ha messo 15 anni uno sproposito a tirar fuori questo oggetto che non era proprio un granché ha fatto l'H2 ha fatto l'H3 e alla fine ha fatto l'H4 di cui abbiamo una diapositiva un chile 45 13 centimetri un cipollone cosa ci ricorda ci ricorda i nostri orologi guarda ragazzi è l'orologio come noi pensiamo l'orologio ok il cipollone carica manovella e cook con sto qua ci ha navigato tre anni e si è sempre salvato la pelle funzionava quindi anche su una nave che oscilla si muove sto qua continua a contare un tempo con una fidabilità abbastanza precisa da non farti schiantare sugli scogli chi usa la parte sugli orologi meccanici passiamo alla generazione successiva che sono gli orologi elettronici o a cristallo qui l'effetto che usiamo è l'effetto piezoelettrico perché? perché ci sono dei cristalli in particolare il quarzo come tutti sappiamo tutti i che facciamo i misteri che vibrano quando vengono sottosposti in attenzione elettrica e viceversa quando vibrano generano una tensione elettrica oscillante oscillante possiamo usarla per contare i periodi di un fenomeno periodico di fatto il cristallo va a sostituire il vecchio pendolo quindi qui l'elemento il risuonatore è il cristallo vediamo come funziona anche qua c'è un piccolo video questo in italiano si sente? il guanzo in natura abbonda ed è il ingrediente principale della sabbia quello del nostro orologio però è prodotto in laboratorio dove viene tagliato in modo sottile e a forma di viaggio ciò che lo rende così speciale è la sua proprietà piezoelettrica i materiali piezoelettrici hanno la perurialità di vibrare quando sono sollecitati dalla corrente e il guanzo non fa eccezione tuttavia possono anche fare il contrario ed emettere un impulso elettrico in risposta a una sollecitazione così reagendo alla corrente il guanzo genera impulsi regolari e costanti che azionano il meccanismo dell'orologio con la massima precisione ecco come la batteria alimenta il circuito oscillatore che invia elettricità al cristallo per tutta risposta il guanzo vibra al ritmo vertiginoso di 32.768 oscillazioni al secondo non una di più non una di meno mentre vibra il guanzo emette un debole segnale elettrico di esattamente 32.768 oscillazioni al secondo quel che serve per segnare il tempo 32.768 vibrazioni al secondo o 32.768 hertz corrispondono a 2 moltiplicato per 2 15 volte ogni vibrazione equivale a un impulso inviato a un circuito di azionamento che divide la frequenza del cristallo in 15 riducendo a un solo impulso al secondo questi impulsi però sono troppo deboli per muovere gli ingranaggi delle lancette così il circuito di azionamento l'intensifica prima che arrivino al motore passo passo gli impulsi attivano la bobina del motore e creano un campo magnetico nello statore nello statore muove il rotore di mezzo giro il pulso successivo inverte il campo e il rotore fa un altro mezzo giro e avvia così fino a che la batteria non si esaltisce il rotore è fissato a un treno dei granaggi standard e il rotore sposta le lancette mi sembra molto chiaro quindi abbiamo sostituito il pendolo con il quarzo e notate che qui è ancora il quarzo quindi è ancora l'oscillazione del quarzo che stimola l'orologio ad avanzare quindi il contatore il divisore di frequenze conta 32.768 impulsi e dà un colpo all'amplificatore che poi fa girare la lancetta quindi è ancora il risuonatore che stimola l'avanzamento dell'orologio ha dei limiti questo orologio ovviamente per le nostre vite no sono precisissimi però per tempi medio-lunghi non sono stabili possono avere derive sulla frequenza già dopo qualche decina di secondi e ad esempio per usi in astronomia o per generazione di scale temporali sono ormai superati di fatto quindi hanno fatto il loro tempo come gli orologi meccanici quasi tutti ce ne abbiamo uno al polso però per scopi diciamo avanzati non possono essere usati a meno che non si trovino soluzioni estreme tipo il cryogenic sapphire oscillator che è il top degli oscillatori a cristallo lavorano su zaffiri a temperature di 4-6 kelvin quindi insomma bisogna anche avere un pochino di di freddo qualcosa che lo tenga quella temperatura lì però abbiamo una Q che sale fino a 2 per 10 alla 10 quindi siamo già con qualità di misura del tempo molto alte ad esempio già sufficienti per operare in radioastronomia non ho idea di come e adesso arriviamo alla parte densa gli orologi atomici allora orologi atomici atomici non è che sia proprio un grande termine alla fine sono stati sviluppati e ideati a partire dagli anni 40 al momento sono gli orologi più precisi che noi abbiamo a disposizione in realtà si basano su fenomeni di meccanica quantistica quindi l'atomo c'entra perché a quei livelli di scala noi abbiamo già avvengono già dei fenomeni di meccanica quantistica rilevabili che ci permettono di contare il tempo in un certo modo quindi detti i soldoni noi sfruttiamo le transizioni tra certi stati di certi atomi e io qua adesso mi lancio nel cercare di trasmettere che cos'è questa transizione quantistica ok ci si prova che cos'è un salto quantico noi nel mondo macroscopico siamo abituati a cambiamenti che avvengono gradualmente io accendo l'acqua sotto la pentola non è che la pentola sta fredda per mezz'ora e poi improvvisamente comincia a bollire no la pentola si scalda man mano nel tempo nel mondo microscopico ciò non è vero i cambiamenti nel mondo microscopico avvengono per salti come se io accendessi sotto la pentola l'acqua resta sempre a 20 gradi e a un certo punto pum l'acqua parte e arriva a 100 gradi immaginate con gli occhi della mente questa cosa qua quindi perché quantistica perché tutto avviene per salti salti a cui associata una ben precisa energia quindi tenete conto che fermiamoci anche solo agli attomi quindi specie atomiche ne conosciamo più di 100 specie atomiche stabili un poco meno di 100 ognuno di questi ha degli isotopi quindi sono la stessa specie atomica che però ha dei nuclei con più o meno neutroni al suo interno possono essere o no ionizzate quindi possono avere più elettroni di quelli consentiti o meno quindi ogni specie atomiche in ognuno dei suoi stati è pronta a fare salti in altri stati e ognuno di questi salti è associato a una ben precisa energia molto precisa molto precisa perché non usarla per farci un orologio il problema è capire come chi è che trasporta l'energia dentro e fuori questi oggetti in maniera che saltino verso l'alto o verso il basso sono i fotoni fotoni? sì proprio quelli della luce è lo stesso il fotone è la particella deputata a trasportare il campo elettromagnetico quindi è la stessa particella che noi poi percepiamo come luce infatti certe transizioni guarda caso emettono luce quando noi guardiamo il sole quello che ci arriva a noi è il risultato di miriadi di salti a livello quantistico del carburante che c'è lì dentro è quello che ci arriva addosso è luce quindi i fotoni giocano un ruolo fondamentale nel passaggio di stato a livello quantistico finora niente difficile ci vuole questo atto di fede che le cose in quel mondo lì avvengono improvvisamente e per salti non c'è un concetto di continuità da cui la parola quanto quindi Planck ci ha raccontato che l'energia viene portata trasportata proprio in questi pacchetti i cosiddetti quanti ogni fotone porta una ben precisa energia se ne accorse perché videro che le energie si presentavano sempre in multipli di numeri interi e quindi formularono l'ipotesi che l'energia viaggiasse a pacchetti non ulteriormente divisibili chiamati quanti non solo l'amico qua trovo qualcosa in più che è l'energia di un fotone e la frequenza della sua radiazione sono legate tra loro e qua mi allargo in una formula è uguale h ni è la formula più facile che potevo mettere non mi spingo più in là di questo è ovviamente l'energia ni è la frequenza con cui sta vibrando l'onda elettromagnetica e anche una banalissima costante a cui è stato dato il nome costante di Planck perché in onore al al personaggio che trovò questa formula cos'è che deduciamo subito da questa relazione almeno che più alta è l'energia più alta sarà la frequenza del fotone più alta sarà la frequenza dell'onda cosa c'entra tutto questo con l'orologio basta cercare una frequenza giusta e magari ci possiamo lavorare sopra quindi a noi serve una frequenza che sia prima di tutto compatibile con la tecnologia che noi abbiamo a disposizione quindi deve essere qualcosa su cui noi riusciamo a operare poi dove nel mondo dell'elettronica perché ormai la meccanica l'abbiamo superata quindi ci vuole qualcosa che sia compatibile con quello che noi riusciamo a realizzare in industria in laboratorio a livello elettronico proprio di dispositivo elettronico nel senso di elettroni quindi salti ad energia troppo alta ci porterebbero a frequenze troppo alte che noi non riusciamo ancora a manipolare a livello di circuitistica quindi dobbiamo semplicemente tra virgolette cercare la frequenza giusta ad esempio voi avete visto il tubone di prima il tubone di prima ci permette di guardare il sole nella cosiddetta regione h alfa ora spero che dopo questa piccola cosa qua sappiamo che h alfa che cos'è è uno dei famosi salti quantici in particolare l'elettrone dell'atomo di idrogeno che salta tra due livelli tra livello 3 e livello 2 quindi tutte le volte che un elettrone dell'atomo di idrogeno che sta per qualche motivo lasciamo stare per qualche motivo sul livello 3 e decide lasciamo stare per quale motivo di saltare a livello 2 bene questa transizione è una transizione quantistica alla quale corrisponderà quindi una botta di energia tutta insieme e non in maniera graduale questa botta di energia sparerà fuori un fotone e questo fotone ha una lunghezza d'onda ben precisa ok quindi tutte le transizioni di un atomo di idrogeno con il suo elettrone che passa dal livello 3 al livello 2 emette un fotone con quella lunghezza d'onda e tutte le volte che un fotone che sul livello 2 riceve una lunghezza d'onda un fotone con quella lunghezza d'onda visto che è accordato al suo salto alla sua energia salta al livello 3 quindi la bellezza anche della meccanica quantistica che è perfettamente reversibile ok quindi la stessa cosa che viene prodotta e anche la stessa cosa che viene assorbita e inverte esattamente la causa che l'aveva prodotta quindi questo è un esempio uno dice domanda ma perché non usiamo lo salto dell'halfa che è quasi banale produrlo non lo so magari no 457 terahertz è una frequenza un po' troppo alta per gestirla a livello circuitale quindi non riusciamo a manipolare frequenze del genere quindi ci spostiamo su transizioni sempre quantiche perché l'idea non è male questa cosa qua che questo salto sia legato a una frequenza così tanto precisa non è una brutta idea però l'energia è troppo alta quindi cerchiamo qualche transizione che sia un po' più bassa cosa vuol dire più bassa di energia è uguale a h ni vuol dire anche più bassa di frequenza quindi delle frequenze che magari riusciamo a manipolare con i nostri circuiti quindi andiamo su questa cosa che si chiama struttura iperfine che è un altro punto in cui lavora la meccanica quantistica che è molto non è nemmeno la struttura fine è la struttura iperfine quindi nella struttura iperfine che è data quindi non è nemmeno più l'elettrone che salta da un livello all'altro troppo troppa energia troppa energia qui è l'interazione magnetica tra gli elettroni e il nucleo dell'atomo quindi non è che l'elettrone si sposta tra un livello e l'altro sarebbe come cioè usare un fulmine per far funzionare questo orologio troppa energia andiamo sulla struttura iperfine dove il salto quantico è talmente basso che nello stato fondamentale l'idrogeno uno dei suoi salti di struttura iperfine è un milionesimo di elettron volt che è forse prima non l'ho scritto la transazione tra livello 2 e 3 sono 13 elettron volt questo è 6 milionesimi di elettron volt quindi è meno di un milionesimo della transizione H alfa e l'energia è più bassa quindi la frequenza è più bassa 1.45 GHz cominciamo ad essere su delle frequenze che riusciamo a gestire con l'elettronica come i telecomunicazionisti mi confermeranno a questo punto vi presento il candidato quello che oggi è il principe degli orologi atomici che è l'atomo di cesio di cui abbiamo una fotografia di un suo insieme di personaggi quindi questo è il cesio come si presenta è un metallo fluido argente o bianco finita la parte sentimentale andiamo a vedere che cos'è allora il nucleo del cesio ha il numero atomico 55 ora io non lo sapevo però guardando la tavola periodica sta nella prima colonna quindi è il gas nobile xenon sapete che i gas nobili sono quegli atomi che hanno una struttura quantistica talmente stabile che non gliela muovi non gliela muovi quindi i primi 54 elettroni di sta boccia di cesio sono quelli dell'atomo di xenon cioè non glieli muovi chi è che sta fuori? un elettrone sta fuori da questa nuvola iperstabile ma c'è un elettrone fuori magari visto che è l'unico che è fuori da questa zona di iperstabilità lo riusciamo a usare bene l'idea non è malvagia quindi prendiamo il cesio 133 il cesio ha 40 isotopi cioè il cesio si presenta con 40 isotopi alcuni sono hanno tempi di vita lunghissimi alcuni hanno tempi di vita brevissimi alcuni sono anche mortali per l'uomo perché sono molto radiattivi invece il cesio 133 è l'unico isotopo che è stabile quindi abbiamo un atomo che è stabile che non è che si mette a fare reazioni nucleari strane che potrebbero alterarci la nostra misura pigliamo sto cesio che ha una boccia di 54 elettroni iperstabili e uno che è lì che non sa bene che cosa fare ecco qua un disegno vedete questo proprio ce lo lasciate perdere tutti gli SPD non fateci caso tutta la zona grigia è la nuvole elettronica dello xenon quindi ripeto veramente il massimo della stabilità l'elettrone 6S rosso è lì che gira sta lì perché è il 55esimo elettrone e viene attirato dal 55esimo protone del nucleo ma non è che sia in una pozza di potenziale così così stabile però noi non lo vogliamo nemmeno far saltare che sarebbe una reazione troppo potente noi che cosa gli facciamo a sto 6S andiamo a beccare quello che è il salto iperfine quindi quello che vi dicevo prima quindi se noi volessimo fargli fare un salto tipo per strapparlo dall'atomo andremo di nuovo a energie troppo alte quindi noi hanno scoperto ovviamente perché si studiano tutte ste cose perché uno dice ma guarda c'è un salto iperfine che coincide proprio con una lunghezza d'onda di 3,26 cm spin dell'elettrone spin del nucleo nella stessa direzione spin dell'elettrone spin del nucleo in direzioni opposte quindi stiamo solo cambiando la direzione di spin dell'elettrone quindi una debole interazione magnetica basta poca energia per stimolare questo cambiamento è sufficiente avere una frequenza di 9 miliardi 192 milioni 631 770 hertz quindi 9 gigahertz siamo nell'ambito delle microonde siamo nel mondo del gestibile cavolo abbiamo un buon candidato chissà quanti ne avranno provati prima di arrivare a sto qua cavolo questa radiazione di 3,26 cm dal 1967 è quella che definisce quella che per noi è l'unità di tempo e quindi questa frase qua che si trova su wikipedia che la prima volta che la leggi dici ma cosa significa adesso spero che un'idea di che cosa significhi ce l'abbiamo tutti quindi il secondo è definito come la durata di 9 miliardi 192 milioni 670 milioni 670 periodi di quale radiazione della radiazione corrispondente alla transizione tra due livelli iperfini quindi non salti di elettroni ma un piccolo cambio dello spin in particolare da f4 a f3 dello stato fondamentale quindi il cesio è nel suo stato fondamentale cesio 133 perché è quello stabile che fa gli facciamo fare a quest'ultimo elettrone questo microsalto iperfine al quale corrisponde quella radiazione lì si tratta solo a questo punto banalmente di contare 9 miliardi espuncia e abbiamo il secondo campione ecco l'orologio al cesio provate voi a contare la radiazione non siamo capaci quindi a differenza dei due tipi di orologi precedenti dove io vi avevo detto qui è il risuonatore che stimola tutta la meccanica o l'elettronica dell'orologio qua non ce la facciamo non riusciamo a far stimolare un'oscillazione dal fotone che esce a 9 gigahertz quindi dobbiamo usare un'altra tecnica che si chiama la retroazione quindi non potendo usare direttamente il fotone emesso dalla transizione quantica facciamo questo piccolo cambio di paradigma siamo noi che generiamo una frequenza intorno ai 9 gigahertz e poi la spariamo contro gli atomi di cesio se l'abbiamo indovinata questi qua entreranno in risonanza e vedremo certi effetti se non l'abbiamo indovinata questi qua non reagiscono e questi effetti non li vediamo qui capite perché bisogna che la transizione sia molto con la puzza sotto il naso cioè deve avvenire esattamente a quella frequenza lì se per qualche motivo la transizione dell'atomo di cesio avviene a frequenze che si allargano un pochino nello spettro e noi facciamo un errore noi contiamo 9 miliardi e rotti di periodi ma quello che abbiamo tirato fuori non è un secondo ma è un po' più o un po' meno di un secondo quindi bisogna anche trovare delle transizioni che siano molto isolate molto precise anche qua c'è un filmato che fa vedere come funziona l'orologio al cesio ve lo doppio io perché anche questo mi sa che è in inglese via allora il cesio si presenta fondamentalmente in due sono i due stati F4 e F3 sono quelli di prima no? noi cosa facciamo? mettiamo generiamo un flusso di cesio atomico quindi un plasma da un forno questo atomo ha la caratteristica che con un magnete posso dividere quelli ad alta energia da quelli a bassa energia quindi la prima cosa che avviene nell'orologio al cesio è butto via quelli a alta energia e tengo quelli a bassa energia quindi il flusso di plasma che esce dal forno che sono singoli atomi di cesio passano in mezzo ai magneti e per fortuna questi due stati reagiscono diversamente ai magneti quelli gialli che sono quelli a bassa energia li faccio passare in una camera dove sto bombardando io con queste onde se io indovino la loro frequenza questi qua diventano rossi quindi riesco a fargli fare questo salto se li butto di nuovo dentro i due magneti eh a sto punto sono ad alta energia quindi verranno deviati dal campo magnetico e qui vado a vedere se ho indovinato e questa è la retrazione quindi se ho indovinato sono sulla frequenza giusta e l'oscillatore dice ok non mi muovo sono preciso se sbaglio la frequenza gli atomi non sono più carichi quindi non vengono più deviati esattamente nel rilevatore e quindi vuol dire che sto sbagliando frequenza quindi o devo salire o devo scendere ok? vedete il meccanismo? ok? quindi non bastava solo una transizione bisognava anche avere un qualcosa che ci permettesse di suddividere i due le due specie quella eccitata da quella non eccitata per fortuna il cesio con dei semplici magneti lo puoi suddividere se no non ce l'avremmo fatta a fare gli orologi ripeto chissà quanti ne hanno provati di atomi e di ioni e di specie prima di arrivare a capire che questa era buona quali sono i suoi limiti? che questi atomi sono prodotti da un forno e quindi si muovono a causa di cose del calore se si muovono si forma quello che è l'effetto Doppler che il classico esempio è l'ambulanza che arriva quando l'ambulanza suona mentre si avvicina noi sentiamo una nota più acuta quando ci passa esattamente davanti sentiamo la vera nota dell'ambulanza e quando si allontana sentiamo una nota più grave se l'atomo si sta muovendo è chiaro che anche le frequenze di interazione non saranno più 9 miliardi 160 e bla 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 ma saranno un po' di più un po' di meno a secondo se l'atomo si sta muovendo verso l'emettitore o distante dall'emettitore quindi il calore che fa muovere questi atomi è un nemico della precisione di questi orologi e quindi e quindi l'ultima frontiera è questa l'orologio affontana di Cesio quindi noi dobbiamo togliere calore agli atomi e renderli sempre più fermi qual è la tecnica? la tecnica si chiama raffreddamento al laser come funziona lo più o meno intuito praticamente si bombarda ormai l'abbiamo capito se io bombardo nel microscopico con cosa bombardo? con dei fotoni se io devo fermare l'atomo non mando fotoni con l'energia della transizione del Cesio iperfine dovrò mandare fotoni che riescano a dare un colpo a sto maledetto atomo e fargli fare qualcosa se io sparo fotoni a un atomo da una direzione e dall'altra e viene bombardato sto qua cosa fa? non può fare altro che fermarsi quindi il raffreddamento al laser funziona così sparo un laser compatibile con l'oggetto microscopico ovviamente che voglio fermare sparandoglielo da tutte le possibili direzioni io lo vincolo a stare in una certa zona di spazio e anche qua c'è un filmato sul funzionamento vedete è un po' diverso qua ci sono tutti i laser che raccolgono impacchettano tutti gli atomi di Cesio in una cosa ferma questa cosa viene sparata da un altro laser più potente in su e passa questa qua una camera raffreddata ad azotoliquido passa in questa camera microonde che è l'equivalente della camera microonde di prima quindi se io non becco la frequenza se io non becco la frequenza giusta quando il laser spara l'atomo l'atomo non è eccitato e vedo una rispostina molto bassa quando invece becco la frequenza giusta con le microonde e faccio interagire il laser con l'atomo l'atomo manda fuori un sacco di luce che quindi viene rilevata in maniera più alta eccola qua ed è lo stesso meccanismo di prima faccio una retrazione e cerco di produrre la mia onda cioè alla fine il circuito di controllo è esattamente quello di prima c'è la retrazione e tutto cosa cambia qua cambia che la precisione con cui gli atomi interagiscono con la mia radiazione è molto più alta perché stavolta sono freddi sono fermi e cosa faccio io li faccio muovere in verticale e li bombardo in orizzontale in questo modo l'effetto Doppler si sente solo se il movimento tra sorgente e destinatario è nella direzione dell'onda visto che la mia onda si muove così e l'atomo si muove in maniera perpendicolare ho annullato l'effetto Doppler e quindi con questi atomi iperfreddi ho aumento di un qualche punto la qualità dei miei orologi gli orologi del futuro giusto due cose su qual è la frontiera che vogliamo raggiungere ormai il principio di funzionamento è quello buono cioè questa cosa che nella meccanica quantistica questi fotoni saltano e la frequenza è sempre quella va molto bene per contare i tempi basta solo tra virgolette andare a cercare nuove transizioni quantiche come le cerchiamo è noi vogliamo adesso vogliamo cercare di alzarci in frequenza quindi non arriveremo alla transizione della K-alfa quello che abbiamo visto prima però vorrei andare a frequenze sempre più alte e con atomi che siano sempre più stabili nel tempo in maniera da poter avere errori di misura sempre più piccoli la prossima frontiera saranno i cosiddetti orologi ottici vi ricordate che io vi ho detto la K-alfa è una radiazione visibile è se noi dalle microonde saliamo troviamo i raggi infrarossi e poi troviamo lo spettro della luce quindi saranno orologi ottici quelli che vanno a operare nello spettro della luce quindi addio microonde superiamo il limite sulla massima frequenza delle microonde e cerchiamo salti quantici più energetici qual è l'oggetto che ci permetterà di fare questi orologi si chiama pettine di frequenze allora come è fatto non lo so non l'ho capito ci ho provato però quello che ho capito è che questo pettine di frequenze è il legame che lega le frequenze radio alle frequenze ottiche quindi ci permette a noi nell'elettronica di operare a frequenze compatibili con noi però di trasformarle in frequenze nell'ambito dell'ottica quindi molto più alte e quindi ci permette di costruire questi orologi ottici ci permetterà di costruire questi orologi ottici con i quali avremo delle rilevazioni di tempo ancora più precise dei salti del cesio 133 ulteriore frontiera già teorizzata ma ancora meno realizzata sono gli orologi nucleari l'idea è ma gli elettroni sono belli sono bravi fanno i saltini e tutto quanto ma gli elettroni subiscono molte condizioni dell'ambiente esterno sono il guscio dell'atomo ok guscio quindi tutto quello che avviene all'esterno dell'atomo con chi interagisce interagisce tutto con gli elettroni perché qua siamo a temperature di un certo tipo ci sono radiazioni di un certo tipo quindi tutti i disturbi che abbiamo qua sulla terra interagiscono con gli elettroni ma a sto punto perché non andiamo a lavorare a livello quantistico sui nuclei visto che stanno dentro e sono molto più isolati dal mondo esterno quindi l'idea di base è questa quindi il meccanismo è sempre cercare salti quantici ma stavolta non più nella nuvola di elettroni ma andare a pecare salti quantici nel nucleo e quindi benvenuto il nucleo la forza adesso non è più la forza dei salti elettronici ma è la forza nucleare forte che andiamo con cui andiamo a interagire però anche l'energia di risonanza del nucleo alla fine risente da come sono disposti gli elettroni quindi c'eravamo illusi di togliere il disturbo non lavorando più sugli elettroni però se l'elettrone si sta spostando avete visto prima che lo spin l'interazione iperfine era l'interazione dello spin l'interazione magnetica tra l'elettrone e il nucleo quindi se quell'elettrone lì cambia spin anche il nucleo ne risente però se io si pensa con un laser riesco a imbrigliare nello spazio gli elettroni in maniera che non disturbino il nucleo a questo punto posso andare a interagire con il nucleo e sono abbastanza sicuro che questo disturbo che gli elettroni potrebbero generare essi non lo generano quindi l'idea è inchiodare gli elettroni tanto secondo me toglierne il più possibile quindi ionizzare il più possibile l'attomo una volta che hai sto ione inchiodi gli elettroni con dei laser che li bombardano in maniera opportuna e lì non è che se non è una passeggiata di salute e poi a questo punto ti resta questo nucleo e andando a interagire col nucleo sempre al fine col meccanismo di retrazione genererò queste onde su frequenze ancora più elevate o anche no però interagisco con un qualcosa che ha una stabilità molto superiore non solo sta a fare qua io lo posso inchiodare in un cristallo solido non sono costretto ad avere un forno che mi genera un plasma gassoso per cui servono una cosa grossa potrebbe diventare una cosa piccolissima cioè io sto nucleo qua lo inchiodo dentro un cristallo tanto sto interagendo col nucleo di un atomo non mi interessa che sia gassoso come prima che dovevano essere prodotti selezionati fatti passare nella camera a quel punto lo inchiodo in un cristallo e molto probabilmente riuscirò a realizzare cose abbastanza miniaturizzate però finora siamo nel campo delle idee l'ultimissima ma cosa ci servono sui orologi cioè sta metrologia è veramente fine a se stessa o ci giova anche nelle nostre vite beh intanto una delle tecniche sono le tecniche di posizionamento quindi misure così precise di tempo ci consentono di calcolare con altissima precisione ad esempio la distanza da alcuni satelliti di cui abbiamo note le posizioni con un calcolo di triangolazione possiamo determinare la nostra posizione del ricevitore a terra il gps è un esempio di questo sistema qua se non avessimo orologi così precisi sì tu la rilevi la distanza dal satellite ma c'è un errore in tempo che si trasforma in un errore in metri talmente grande che c'è una precisione di 12 chilometri cioè cosa mi serve un gps con la precisione di 12 chilometri si dico portami al campus di Savona mi trovo a Charborasca un'altra applicazione di orologi ben ben più precisa ad esempio potrebbe essere l'unarsi del sottosuolo come poi ci spiegherà qualcuno che la relatività generale ci racconta che il campo gravitazionale per il solo fatto di esistere influenza lo scorrere del tempo altissime precisioni di misura temporale possono dirci se in un certo punto il campo gravitazionale è diverso rispetto a un altro punto ok già gli orologi atomici di adesso se lo metti uno su un tavolo e uno per terra cominciano già a battere tempi diversi quindi sentono già poche decine di centimetri di differenza del campo gravitazionale dell'effetto della relatività generale del campo gravitazionale quindi se io porto ancora più avanti questa cosa posso ad esempio dedurre se qua sotto c'è un enorme massa o una scarsa massa magari c'è un giacimento c'è dell'acqua quindi posso fare analisi geologiche semplicemente misurando come scorre il tempo qua rispetto a là che a me sembra notevole per approfondire vabbè a parte il sito del NIST e a parte l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica che raccontano un po' di cose c'è questo libro che si chiama Il Tempio Atomico di Calonico e Oldani e poi no non l'ho segnato ma c'è anche il libro sugli orologi di Harrison Longitudine esatto di Sobel Longitudine di Sobel che è bellissimo è romanzato quindi racconta anche le vicende personali e giuridiche che hanno coinvolto questi circa 50 anni di battaglia e bene a questo punto con una Q che ritengo piuttosto adeguata il mio orologio dice che abbiamo terminato il tempo grazie